Giga premessa, c'è un triangolino giallo che vuol dire che, attenzione, fare un pcb implica l'uso di sostanze chimiche e strumentazioni potenzialmente pericolose, corrosive e diciamo che macchiano tantissimo, quindi se volete imitare questo procedimento a casa, uno vi servono questa strumentazione, che non è proprio immediatissimo da prendere, non date all'esse lunga per dire a comprarlo, e due bisogna fare molta attenzione, non usiamo acido cloridrico, quindi non è che facciamo i buchi nei pavimenti, quindi cosa dobbiamo fare? Vogliamo produrre un pcb a singolo layer, perché a singolo layer in realtà noi possiamo produrre anche un pcb a due layer fatto in casa, difficoltà principale, i due layer devono essere perfettamente allineati, in modo tale che io quando faccio il buco, per passare magari una traccia tramite una via da un layer superiore o un layer inferiore, i buchi siano più o meno allineati sul pad che ci interessa trapassare, quindi anche i disallineamenti di frazioni di millimetro sono molto problematici. Oggi quindi vedremo come demopratica come si fa un pcb di un singolo layer, però magari faremo anche degli accenni su come si fa un pcb di doppio layer, per dire il professore che avete visto ieri, il professor Terraneo, ha sviluppato un progetto di produzione di pcb due layer con electroplating delle vie, quindi facendo depositare del materiale conduttivo tramite processo chimico anche all'interno dei buchi essenzialmente, che è molto complesso, si tratta di 31 passaggi, è disponibile su youtube, ve l'ho linkato alla fine, molto interessante da vedere, è fattibile in casa con cose relativamente disponibili da comprare, ma è molto tedioso, quindi oggi non lo vediamo perché ci vuole qualche ora, è un po' overkill per il nostro scopo, quindi pcb layer singolo. Quindi passo numero uno, o meglio passo numero zero, con cosa andiamo a lavorare? Andiamo a lavorare con una cosa che in italiano si chiama basetta presensibilizzata, qua ho specificato positiva, perché le basette possono essere presensibilizzate in positivo e in negativo. Non so quanti di voi sono familiari con lo sviluppo fotografico, il processo molto old style di sviluppo dei negativi fotografici, il processo è molto simile, almeno nei concetti, però adesso lo rivediamo un po' più nel dettaglio per capire come facciamo. Come notate questo è quello che si compra se è presensibilizzata, si prende una basetta con un substrato e uno strato di rame, tutto piatto sopra, quindi abbiamo questo rettangolino che assomiglierà appunto a un circuito stampato senza niente sopra di rame. Sopra viene applicato un layer aggiuntivo chiamato photoresist, che è semplicemente un pezzo di plastica, di un materiale plastico, che è molto sensibile alla luce ultravioletta. Questo layer a sua volta sarà coperto da una plastichina protettiva per evitare che mentre lo maneggiamo durante la spedizione questo venga esposto a luce ultravioletta. Quindi questo è il materiale con cui inizieremo a lavorare. In realtà possiamo prendere anche una basetta non presensibilizzata, quindi che adesso è sul strato e la parte di rame, e poi applicarci noi sopra, laminandolo, uno strato di photoresist, che esistono proprio questi film, queste pellicole che si vanno ad applicare sopra con, non so se avete presente tipo lo strumento che serve per plastificare i fogli. Fa la stessa identica cosa, solo che noi lo facciamo con una basetta presensibilizzata. Bisogna fare attenzione a non lasciare bolle e tutto quanto, quindi cosa si fa? Si compra già presensibilizzata che non ha bolle ed è un po' più comodo. Queste robe si trovano su ebay, se volete. Passo numero uno. Cosa facciamo? Esponiamo il nostro photoresist alla luce ultravioletta, solo però nelle zone in cui vogliamo rimuovere il rame. Cosa succede? Nella parte esposta il photoresist subirà una polimerizzazione, quindi cambierà, diciamo, senza entrare troppo nei dettagli, le sue proprietà e diciamo che si distinguerà dal photoresist non esposto, in modo tale da avere un'impronta del nostro circuito sul photoresist. Quella esposta sarà solubile a certe sostanze, chiamate sostanze di sviluppo, sviluppatori essenzialmente. Come facciamo a fare questa cosa qui? Come facciamo a selezionare precisamente dove vogliamo esporre? Applichiamo una maschera. Una maschera è semplicemente un altro strato di materiale qualsiasi che blocchi parzialmente la luce UV nelle zone dove non vogliamo che passi la luce, essenzialmente. Quindi la maschera è uno strato apposto sopra che comunque poi togliamo e non ci interessa. In realtà ci sono più modi per farne uno. Numero uno. Prendiamo un foglio di acetato, che quindi è semplicemente questa, riduttivamente una plastica trasparente e ci stampiamo con una stampante normalissima con inchiostro nero l'impronta del nostro circuito. Questo si può fare, occhio al tipo di stampanti che utilizzate, ci sono alcune che funzionano meglio, altre che funzionano peggio. L'importante è che abbiano un'elevata risoluzione, perché per tracce da 0.2 mm la stampante deve avere un'ottima risoluzione e soprattutto l'inchiostro non si deve disperbere e tutto quanto, quindi bisogna fare delle prove. Questo è il metodo più tradizionale che si fa. Come vedete, nelle zone coperte dal nero l'UV non passa, nelle zone lasciate libero ovviamente l'UV passa. Opzione numero due. Prendiamo della carta normale, ci stampiamo sopra con una stampante normale e poi mettiamo dell'olio, dell'olio per bambini in questo caso, per renderla semitrasparente. Quando noi lo applichiamo sulla nostra vasetta, sarà semitrasparente. Questo metodo non è l'ideale perché, come si vede anche da quest'immagine, la trasparenza non è totale. Quindi l'esposizione dovrà durare molto più a lungo e potrebbero esserci problemi di perdita di dettaglio oppure granularità. Questo è proprio un last resort come opzione, non è proprio una grande idea. questa invece è una roba molto recente. Non so se sapete come funziona uno schermo LCD normalmente. Cosa si fa? Uno schermo LCD, tipo quello che potete avere su un vostro televisore. Se lo selezioniamo, abbiamo un polarizzatore davanti. Adesso questa è una selezione molto semplice. E poi abbiamo una serie di display LCD. In questo caso dipende dal tipo di LCD ma di solito sono tre per i tre colori. E dietro abbiamo una fonte di retroilluminazione. Qua abbiamo R, qua abbiamo G e qua abbiamo B. E qua abbiamo una retroilluminazione. Quindi quello che succede? Questi layer qui rappresenteranno la nostra immagine e oscureranno parzialmente una certa frequenza di luce in base ai tre colori primari che utilizziamo. Questo qua andrà a far passare della luce in questa direzione che filtrerà qui. Polarizzatore semplicemente polarizza la luce e quindi la rende tutta uniforme. Fisica 2 insomma. Cosa facciamo? Buttiamo via tutta questa parte qua. Questa cosa non ci interessa. Teniamo un layer, in questo caso monocromatico bianco-nero. Ok? Quindi BN. E buttiamo via anche il polarizzatore senza vento. Ok? Quindi abbiamo solo uno schermo LCD monocromatico. E dietro ci mettiamo una fonte invece a UV. Che sono nel nostro caso un array di LED ultravioletti. Oppure potrebbero essere dei neon ultravioletti. Qualsiasi cosa che emetta principalmente luce UV. Dove la troviamo? Una roba del genere. Una cosa del genere si può trovare nelle stampanti a resina. delle stampanti 3D a resina. Che non so se avete mai visto. Sono una cosa molto figa da vedere perché sembra che facciano delle magie. Diciamo che permettono di, partendo da della resina liquida, solidificarla strato per strato perché la resina è sensibile a UV. e generare strato per strato il nostro modello. Che verrà magicamente estratto dalla resina liquida. Molto figo se volete cercarlo su YouTube. Però non ci interessa particolarmente oggi. Cosa facciamo? Prendiamo una stampante a resina 3D oggi. Togliamo la resina. Togliamo tutto. Praticamente la rendiamo un display stupido. Retroilluminato UV. Ok? Quello che vedete qui è la visione da sopra. Quindi come vedete lo schermo lascia passare luci solo in alcune zone. E sotto c'è la luce UV. Che qua appare blu-bianca. Perché in realtà abbiamo messo un filtro davanti. Perché sennò rovinava il sensore della videocamera. Però la luce UV è viola. Cioè non viola in realtà. È ultraviolenta. L'alternativa se non abbiamo la stampante 3D. Utilizziamo la nostra carta imbevuta di olio. Oppure il nostro foglio di acetato. Con un sistema di questo tipo. Che in italiano si chiama bromografo. Essenzialmente perché veniva utilizzato per lo sviluppo anche in fotografia. Ed è semplicemente questo in questo caso nello specifico. È uno scanner modificato. È stato scavato tutto quello che c'era sotto. E sono stati messi dei neon ultravioletti. Quindi quello che facciamo noi è la stessa identica cosa. Solo che come maschera. Al posto che avere questo coso LCD. Abbiamo la nostra maschera che abbiamo stampato noi. Vantaggio di avere uno schermo LCD. Io posso cambiare il design ogni volta. E ovviamente l'acetato invece va ristampato ogni volta. E in più c'è un errore di parallasse minore. L'errore di parallasse è dovuto al fatto che l'acetato è spesso. E quindi la luce al suo interno viene rifratta. E quindi le tracce non saranno ben definite sul nostro design. Quindi quello che facciamo noi è questa cosa qua. Noi mettiamo sopra la nostra maschera. Facciamo questa luce solo da una parte. Diciamo che nel caso di acetato e quasi non perfettamente calibrate. Ci sarà una rifrazione. Quindi la proiezione non sarà perfettamente verticale. Non sarà un po' sfumata, stoccata essenzialmente. A volte è minimo l'effetto. A volte è un po' più marcato. Cosa facciamo? Secondo step, sviluppo. Come funziona lo sviluppo? Si prende un reagente, quindi un agente chimico, che sia in grado di attaccare il nostro stato di fotoresist, ma solo la parte che è stata polimerizzata. In questo caso noi utilizzeremo l'idrossido di sodio, chiamata comunemente soda caustica, diluita chiaramente in acqua. Numero uno, soda caustica è corrosiva, corrosiva alla pelle, ai tessuti molli. Quindi se va negli occhi, se va nel naso, se va ovunque, diciamo che vi bruciate. Quindi non buono. Si usa anche per le pulizie in casa, in versione diluita. Noi la utilizzeremo pure e la diluiremo noi. Quindi attenzione qui. La soluzione che usiamo noi è una soluzione all'1%, 10 grammi su litro. Quindi non è un problema. Diciamo che per gli Stati Uniti questa soluzione si può anche bere. Però vabbè, gli americani fanno delle cose strane. Cosa fa questa soluzione? Va ad attaccare la parte esposta e quindi ci scaverà dei buchi nel nostro photoresist. Attenzione che però questa soluzione non attacca il rame. E quindi il risultato sarà esattamente quella cosa lì. Cosa facciamo adesso? Andiamo ad attaccare il rame. La procedura di etching utilizza invece un reagente chimico che va ad attaccare il rame, ma non il photoresist. Quindi fa più o meno il lavoro opposto. In questo caso utilizzeremo il cloruroferico. FCL3. Disclaimer numero 1. Il cloruroferico non va bevuto. Beh, macchia. Non genera vapori tossici. Se però invece si generano delle polveri è un po' un problema. Quindi nel senso non è un problema ispirarlo. Macchia tantissimo. Nel senso che cade una goccia. Se voi prendete un litro d'acqua e fate cadere una goccia l'acqua diventa arancione. Quindi macchia tanto. E lo so per esperienza perché ho buttato via un paio di pantaloni l'altro ieri. Mia madre non era contenta. E quindi attenzione a non farlo andare in giro. Si usano i guanti. Ma non tanto perché sia corrosivo cioè è corrosivo per i metalli per tutti i tipi di metalli essenzialmente ma non per l'uomo non è troppo pericoloso. Però macchia tanto. E quindi evitiamo. E quindi cosa facciamo? Con invece un altro progetto chimico andiamo a rimuovere lo strato rimanente di photoresist in modo tale che il rame sia esposto e noi possiamo saldarci sopra essenzialmente. Cosa utilizziamo? Comune acetone. O in realtà si può utilizzare anche l'alcol però è un po' meno aggressivo. L'acetone è l'ideale in questo caso. Notate come il rame è perfettamente esposto all'aria quindi subirà ossidazione. però noi dobbiamo esporre il rame all'aria in modo tale da poterci saldare sopra. Con il photoresist sopra non possiamo saldarci o meglio possiamo saldarci ma dobbiamo primo fonderlo e desce un po' un pasticcio quindi è già... cosa possiamo fare ancora per migliorare questa cosa qui? Ah è giusto questo è il risultato quello che si vede è solo il substrato esposto e sono rimaste del nostro strato di rame originale sono rimaste solo le tracce. Questa è una fotocoscienza perché è molto... si vede abbastanza bene quando strippi tutto il rame e rimane poca roba. Cosa si può fare per migliorare questa cosa? Si può applicare una solder mask che serve appunto per proteggere dall'ossidazione. Questa solder mask come abbiamo visto il primo giorno è tipo una vernice che viene applicata sopra e tenendo comunque esposte le zone in cui dobbiamo saldare i nostri pad essenzialmente. Cosa facciamo? applichiamo appunto questo strato di vernice fotoresistiva e questo viene applicato esattamente nello stesso modo in cui vi ho spiegato prima come si applica il fotoresist. Va applicato effettivamente con questo laminatore di documenti e quindi è un processo un po' scomodo si possono formare delle bolle quindi non si fa tendenzialmente. E poi cosa si fa? Si ripetono gli step originali quindi si espone alla luce ultravioletta si sviluppa con una sostanza differente stavolta e poi si fa l'hatching quindi si toglie la parte esposta con un'altra sostanza ancora e l'unica differenza è che la maschera appunto oltre a richiedere i suoi agenti chimici appositi richiede anche diciamo una mappa diversa quindi l'immagine che andremo a stampare sulla nostra maschera sarà diversa dall'immagine stampata sulle tracce. Per dire qua noi andremo a lasciare i buchi soltanto nei posti dove vogliamo saldare non anche le tracce quindi semplicemente si reitera lo stesso processo che vediamo oggi quindi l'ultima passo invece è fare i buchi se abbiamo dei componenti through all quindi non lavoriamo solo in smd quindi è montaggio superficiale ma vogliamo anche dei componenti che entrano che hanno le gambe che passano dentro i pad dobbiamo fare dei buchi come si fa trapano punte molto sottili che si rompono molto facilmente e soprattutto punte fatte apposta per bucare il materiale del substrato che è vetroresina quindi perché se no la punta del trapano vi dura tre buchi magari anche no quello che avete qua invece è una macchina CNC che praticamente è un trapano che si può muovere su due assi ok il vantaggio è che noi gli diamo la mappa esportata direttamente dal nostro Kikad e lui fa i buchi esattamente dove vuole che ci dove vuole che deve fare i buchi so svantaggio un CNC è pesante costoso difficile da ottenere e quindi un po' un casino queste sono alcune cose addizionali il primo è un video tutorial fatto sempre del proprio sorterraneo su questo processo nello specifico con delle soluzioni un po' più ottimizzate per dire la soda caustica normalmente non viene utilizzata perché è un po' complessa perché è molto diciamo sensibile alla concentrazione e alla variazione di temperatura diciamo che la sua curva di reazione è molto ripida quindi una variazione magari anche di due gradi fa cambiare completamente il risultato alle tempistiche quindi si usano delle soluzioni un po' diverse con degli agenti chimici un po' più specifici e lì sono spiegate abbastanza seconda è un po' la bibbia di questo processo è un articolo di un blog diciamo scritto da un signore che fa questa cosa da vent'anni e quindi diciamo che è un po' un guru di queste cose qui quindi se vi interessa quella è il punto da dove partire perché vi dice non fate questo non fate questo non fate questo e queste sono le tre cose che io pensavo andassero fatte e già evitiamo l'ultimo invece è un approfondimento questo invece è una serie di video che illustra il processo 31 passaggi sempre del professor Terraneo sulla produzione di PCB a due layer due layer compresa solder mask quindi quello che esce è un PCB di qualità industriale se fatto bene con electroplating e tutto quanto è un processo lungo intanto sono il primo video spiega il processo il secondo video spiega i cosa sarà una decina quindicina di reagenti chimici che sono necessari a sviluppare l'intero processo e quindi detto questo spiego anche detto che abbiamo 5 minuti una tecnica un po' più avanzata di di produzione di PCB che è alternativa a questa cosa qua noi abbiamo il nostro substrato e abbiamo il nostro layer di RAM quello che possiamo fare è con la mia CNC se è una CNC molto buona entro con la punta e muovo la punta in questa direzione quello che succede è che io scaverò questo layer di RAM quello che posso fare è tracciare con la CNC quindi scavare via il RAM con la punta del trapano e fare le tracce così senza dover esporre lavorare con agenti chimici che attaccano il RAM il RAM viene semplicemente trapanato via in modo meccanico e non chimico lo svantaggio è che la CNC deve essere molto precisa nel senso che le vibrazioni devono essere inferiori allo 0.1 che è un po' complesso e quindi servono qualcosa di pesante molto ben calibrato e soprattutto la CNC la parte difficile è che deve imporre una forza diciamo non assiale cioè non perpendicolare rispetto al suo asse di lavoro nominale quindi è un processo un po' più complesso più difficile da calibrare ma i risultati che escono sebbene di precisione inferiore sono molto più veloci e soprattutto molto più semplici una volta calibrata la macchina perché il processo è riproducibile però la macchina deve essere ottima ok qualcuno lo fa qualcuno ci riesce qualcun altro no qualcuno non ha la CNC come noi e quindi il processo è quello chimico allora andiamo a vedere un produttore di PCB allora qua non facciamo pubblicità però purtroppo un sito dobbiamo scegliere io sono familiare con due siti che tra l'altro sponsorizzano video su YouTube quindi magari se vi interessano queste cose qua probabilmente le avete già sentiti prendo il sito che ha le opzioni un po' più sofisticate da un sito diciamo da un produttore che fa cose un po' più complesse quindi anche molto fuori budget ah giusto ci sono produttori che non fabbricano in Cina tipo Euro Circuit o cose del genere decubblicate i prezzi quindi purtroppo è così allora innanzitutto come vedete ci sono un po' di opzioni in realtà sono molto semplici queste opzioni qui allora prima cosa questi qui fanno una serie di cose complesse partono dai PCB standard da quelli avanzati quindi che offrono delle opzioni di fabbricazione più avanzate e più costose PCB flessibili quindi che possono essere per applicazione un po' particolari quindi sono semplicemente dei cavi piatti non so se avete presente tipo quelle delle telecamere oppure quello del display del cellulare se avete mai aperto un cellulare loro fanno anche delle tracce custom su questo tipo di supporti un servizio che è abbastanza comune è il servizio di assemblaggio dove sono loro che saldano i componenti sulla board quindi scegliete un catalogo loro e loro ve li saldano va rio al PCB già fatto lo stencil invece viene utilizzato se invece l'assemblaggio volete farvelo voi e avete dei componenti un po' particolari lo stencil è una maschera in acciaio che viene messa sopra la board e lascia esposti soltanto i pad dove volete effettivamente saldare quello che poi andrete a fare voi è applicare una pasta saldante che è diversa dal filo di stagno per saldare una pasta la spargete sopra con tipo una carta di credito e poi togliete la maschera il risultato è che sopra tutti i pad avete un po' di pasta saldante quello che fate poi è con una pinzetta piazzare tutti i componenti SMD di solito questo lavoro si fa per gli SMD e poi cosa si fa? in forno letteralmente si mette in forno oppure con una pistola d'aria calda si scalda la pasta si fonde e praticamente avete già fatto senza dover andare lì col saldatore e il filo questo vale se i componenti sono molto piccoli lo stencil costa a volte di più del PCB perché è tipo un sottile foglio di acciaio e questi offrono anche stampa interd o CNC che lo abbiamo un po' fuori il nostro scopo CNC costa un occhio quindi vabbè andiamo a vedere le prime specifiche che ci chiedono tipo di board pezzi singoli pannello fatto da noi o pannello fatto da loro come funziona il pannello noi abbiamo più design e il pannello funziona in questo modo abbiamo più design abbiamo questo design e questo design che hanno delle forme diverse proprio l'outline della board è differente il pannello vuol dire che loro prendono un loro foglio grosso di PCB ok e ci pannellizzano sopra i nostri design questo è un po' bruttino ma più o meno è esattamente quello che fanno quindi cosa faranno loro prendono il pannello completo e poi tagliano nello stesso modo in cui taglierebbero la board singola così e lasciano questi che sono dei buchi e quindi il risultato è che abbiamo i nostri PCB attaccati tra di loro con degli altri pezzi di PCB qua verranno fatti di forellini in modo tale che io possa spezzare non so se avete presente tipo i modellini da costruire che arrivavano con tutti i pezzettini infilati dentro in questi scheletri di plastica e voi dovete staccarli ecco il concetto è lo stesso il pannello può essere fatto da noi quindi possiamo scegliere noi dove disporre i nostri design oppure da loro nel senso che noi li buttiamo dentro due o tre design e loro ci fanno il pannello in automatico questo è un servizio un po' costoso per esperienza opzione sotto è chiaramente il numero di design nel pannello e qua la dimensione e senza di solito ah giusto il pannello qua c'è un'immagine abbastanza descrittiva questi sono tra l'altro le stesse forme questi sono i nostri due design il pannello invece è quella roba lì quindi i singoli design che sono collegati in quel modo lì la dimensione ecco la dimensione del singolo pezzo diciamo che i vari produttori hanno dei limiti quindi oltre per dire i 10 cm per 10 cm applicano una tariffa differente regola generale state sotto i 10x10 per i vostri PCB sotto di solito non cambia troppo il prezzo in base all'aria quantità generalmente esatto vanno a multipli questo qua è un produttore che si vede che scala abbastanza bene con le grosse quantità meno di 5 non si ordina di solito per 5 euro sono 5 pezzi non si può andare sotto i 5 euro essenzialmente però magari con finiture particolari inizia a salire comunque meno di 5 copie non ve le fanno generalmente numero di layer ok questo manufacturer arriva fino a 14 layer nell'opzione standard ok nell'opzione avanzata credo se non ricordo male anzi andiamo direttamente nell'avanzata ecco arrivano fino a 60 ecco progettare un PCB da 60 layer o vi chiamate Nvidia o Intel oppure non lo fate essenzialmente o siete la NASA che dovete sparare un qualcosa nello spazio che il PCB è più alto che largo generalmente non si fa per dire il design di computer che potevamo vedere aveva tipo 12 layer non è un numero eccessivamente grande per cibi digitali complessi materiale allora il materiale è un po' particolare FR4 che è il materiale standard per il nostro substrato è vetroresina essenzialmente quindi consigli di sicurezza la vetroresina si può tagliare non si può inalare perché è cancerogena però è cancerogena nello stesso modo in cui lo è l'Eternit in cui lo è come si chiama amianto esatto quindi in realtà tu ci puoi vivere anche a contatto per un anno però se ci vive a contatto tutta la vita è un po' un problema il concetto è lo stesso solo però in polvere normalmente quando noi la maneggiamo non è un problema tutti i PCB sono fatti in FR4 praticamente i vari TG sono semplicemente dei trattamenti diversi che cambiano un po' le proprietà magari del dielettrico le proprietà meccaniche le proprietà di diciamo di affidabilità mentre vengono lavorati e generalmente TG 140 va bene TG 150 per applicazioni mediche umilitari TG 170 se volete spararlo nello spazio Allogen Free è una questione cioè offrono queste opzioni perché sono una questione ambientale quindi se voglio produrli in scala è meglio Allogen Free queste qua invece sono opzioni un po' più avanzate che sinceramente hanno trattamenti speciali c'è proprio scritto special material cos'è? l'effetto sorpresa roba loro immagino mai provati non ne ho idea e ovviamente qua c'è allegato il datasheet con le varie differenze tra l'altro con resistività insomma tutti i parametri che per il tipo di cose che abbiamo visto in questo corso non ci interessano particolarmente quindi TG 140 va benissimo TG 150 se volete essere molto fancy non andate oltre non serve a niente high speed gigahertz in realtà anche TG 140 potete andare sui gigahertz non è un problema però magari è un po' più semplice lavorare tra l'altro ho evidenziato il rosso quindi quanto pare costa non lo so cosa vuol dire spessore lo spessore standard è 1,6 questo si intende lo spessore totale dei vostri layer tutti assieme probabilmente se selezioniamo 60 layer è esatto non andiamo ovviamente loro possono comprimerli fino a un certo punto e quindi sotto i 3,2 mm non andiamo per 4 layer 1,6 è standard si può scendere fino a 0,4 oppure roba un po' più custom generalmente 1,6 è quello che costa meno anche 0,8 forse costa più o meno uguale spaziamento delle tracce diciamo che è la larghezza delle tracce che possiamo fare e lo spaziamento tra queste quindi 8.000 che sono millesimi di pollice sono grosse 3.000 sono 0,127 mm quindi sono molto piccole invece generalmente si fa il nostro design si cerca di tenere le tracce quanto più grandi possibili non eccessivamente per evitare appunto come avete visto ieri effetti capacitivi e cose del genere generalmente 6,5 anche 4 se proprio volete fare dei design un po' complessi più ovviamente più sono piccole le tracce e le spaziature più è costoso il processo di produzione più che altro quality control è costoso perché il processo di produzione usano sempre le stesse macchine però contro la qualità ovviamente c'è una più alta probabilità che la produzione esca male buchi stessa roba stesso discorso di sopra diametro minimo cambia il costo da quel punto di vista solder mask noi siamo abituati a vedere solder mask verde ma in realtà ci sono un sacco di altri colori generalmente sono abbastanza comuni bianchi e neri perché sono molto più eleganti però ho visto PCB viola ho visto PCB gialli rossi blu questi matt non ne ho idea grey anche qua non li ho mai visti trasparente è una figata è trasparente però diciamo che cambiano un po' di proprietà del materiale cioè è una copertura trasparente ma la base di FR4 è sempre uguale quindi è come se non si vedesse la maschera quindi non avesse colore ma non è trasparente il PCB ci sono tecniche per fare PCB trasparenti però ovviamente il substrato non è non è vetroresina chiaramente il substrato sarà un'altra cosa ed è molto più limitante probabilmente tra i PCB flessibili forse c'è un'opzione per farlo semitrasparente ma non ho controllato in realtà Seed Screen invece come abbiamo detto nella prima lezione è la stampa che viene fatta sopra delle nostre diciamo delle nostre scritte o dei nostri schemini anche qua è vernice il colore è un po' quello che si vuole diciamo che se io faccio blu su blu ah no non me lo fa fare è a prova di scemo sto sito ok Edge Connector non so se siete familiari ma se noi prendiamo una GPU prendiamo un'immagine a caso di una GPU un Edge Connector è questa roba qua che bella risposta questo qua è un connettore PCI se ti pare che l'immagine me la faccia vedere si sono sempre tre pixel anche qua vabbè è quel connettore lì quindi praticamente sono i bordi del PCB hanno questo coating in oro di solito fino alla fine e sono un po' smussati normalmente i PCB diciamo che sono un po' smussati per evitare la vetroresina che è un po' tagliente però generalmente li possono approssimare con i regoli retti se vanno un po' smussati non è un problema quelli di connessione quindi questi questi tipi di connettori che vanno dentro a slot sono fatti in questo modo ok in modo tale che entrino meglio ok non sono appuntiti sono comunque debussati ma sono molto più diciamo angolati e questa selezione serve per indicare loro che il gold plating se il nostro padre è questo deve essere fatto qui ma deve essere fatto anche qui ok e generalmente sono semplici connessione il gold plating deve essere fatto qua se non mettiamo quest'opzione il nostro PCB non avrà questa parte qua ok sarà esattamente così e il gold plating sarà solo qua non cambia niente meccanicamente potrebbe danneggiarsi se però noi non progettiamo una scheda PCI per dire qualcosa che va in un slot non è essenziale io l'ho fatta il prototipo che avevo fatto passare il primo giorno aveva questo tipo di connessioni ma non erano fatte così non ci sono problemi finché non passi alle mille inserzioni ma frega relativamente e qua questo cambia abbastanza il costo ah giusto c'è lo schemino chiaramente bello carino qua il beveling è appunto l'angolo che vi viene richiesto e qua il tipo di placatura essenzialmente surface finish ovvero i pad esposti quelli che non sono coperti di solder mask da cosa sono ricoperti puzzle led free è praticamente una una prestagnatura una miscela di stagno a piombo non devo disegnarlo non serve a niente è una miscela di stagno a piombo ha un colore grigio non è uniforme un colore un po' argentato non è uniforme e è un po' scomodo per la salvatura però costa molto poco letteralmente prendono la bordo e gli fanno fare un bagno in questa cosa e la tirano su pulito quindi non è proprio uniforme poi l'asciugano insomma è sottile lo scopo è così non si ossida il rame sotto ok una copertura e rame l'altra cosa ha un pelo sopra è l'immersion gold Enig cosa fanno pozza d'oro metto dentro la mia bordo faccio la stessa cosa però ha una rifinitura migliore l'oro come sapete ha ottime proprietà antiossidanti essenzialmente non da mangiare diciamo che si ossida molto molto poco facilmente e quindi è ancora meglio e soprattutto lega molto bene con stagno e piombo questa è la la bordo che vi ho fatto vedere è immersion gold come ce l'ho ancora qua però è immersion gold cambia metteo metteo su 20 dai quella quella sto stando ok le altre cose sono diciamo un po' più specifiche per casi particolari alcune non le conosco anch'io magari art gold se siete milionari magari oppure l'argento e cose un po' particolari se no potete anche farla non placata però sappiate che il rame si si c'è anche esatto quella si vede meglio ancora altra cosa spessore delle tracce di rame questo dei layer esterni lo spessore è il odds americano sinceramente non ho idea di quale sia la conversione è comunque uno spessore essenzialmente un odds è standard due odds costa un occhio andare sopra costa davvero tanto adesso non so se qua mi fa simulare tipo così no devo inserire i dati ma vabbè faccio tipo 10 100 100 qua ci metto 5 pezzi faccio così in parte che questo costa un occhio per quale motivo perché ho messo 100 costa di più questa cosa c'è qualche opzione che mi fa costare un occhio della testa ah perché è advanced giustamente l'advanced per loro parte già più costoso vabbè comunque diciamo che gli spessori più alti servono per trasportare alte correnti sono un casino da fare supportano spessori diciamo larghezze diverse di tracce molto più larghe chiaramente perché noi non possiamo fare una traccia verticale essenzialmente e quindi si lavora con uno due se siete pieni di soldi e volete lavorare con alte correnti sopra se siete aziende sotto boh non vedo motivo di lavorare sotto anche perché non si risparmia tanto inner copper stessa cosa per i layer interni anche qua nel normal pcb non puoi selezionarlo additional option queste sono un po' più delle curiosità per più verso la parte aziendale per vedere effettivamente cosa si può fare con un pcb si può fare la solder mask che possa venire via non so perché mai tu volessi avere questo magari per se anzi no in realtà il motivo c'è alcuni pcb sono ricoperti da quello che si chiama conformal coating che è tipo una mano di un'altra vernice un po' spessa che serve a proteggere rispetto a graffi rispetto ad elevate temperature rispetto ad agenti chimici esterni è una cosa molto comune ed è un casino perché con il multimetro se noi vogliamo fare probing di quel tipo di pcb non riusciamo a passare quella conformal coating e quindi diciamo che è un po' un casino va tolto con il raschietto se si vuole fare reverse engineering o riparazione di qualcosa con conformal coating è complesso per applicazioni militari spaziali biomediche queste cose sono necessarie questo è lo spessore invece del rame attorno ai buchi niente di importante UL marking boh è roba richiesta a livello legale se volete venderla questi te la mettono lì come opzione in più però da Kikad potete comunque inserirla nel layer di silscreen come immagine senza problema così come se volete inserire un vostro logo un'immagine potete inserirlo gli half cut castellette dolls qua non vi fa vedere un'immagine però l'immagine anzi qua c'è proprio questo qui il trasverde di Kiko che ha i castelletti dolls che sono tipo questi buchi se vedete nel perimetro ci sono questi mezzi buchi queste conchette placate completamente in questo caso in oro e lo scopo è adesso quando passate si vede immagino che faccio vedere anche l'immagine così ci siamo sì ma no quella immagine non mi sta dando troppo soddisfazione quello che succede è se io ho un PCB con dei pad con questo pad e questo pad e io voglio saldarci sopra un altro modulo un altro PCB senza utilizzare connettori cosa faccio il mio PCB che è un po' più piccolino e io saldo in questa zona qua praticamente ok il concetto è che il mio PCB deve avere un pad che sia così in modo tale che questo sia un pad questo sia un pad e quello si è saldato ovviamente fare il plating qui sopra qui sopra e qui sotto è abbastanza costoso e quindi serve un'opzione apposita e in più se io faccio dei buchi adesso se lo vediamo da sopra un po' così no meglio un po' così la mia saldatura sarà qua vista da sopra essenzialmente e quindi sarà un po' più uniforme un po' più aderisce meglio essenzialmente anche queste sono opzioni un po' più particolari per applicazioni specifiche custom stack up vabbè questa è un'opzione molto avanzata se vogliamo scegliere noi come metterci i layer nel nostro PCB voglio tre layer di questo tipo poi voglio questo con uno spessore diverso costa un occhio evitiamo qua cosa c'è di interessante ecco impedance control invece questa ci sta anche negli altri manufacturers c'è anche nei tier più bassi cosa fanno misurano tu gli dai una specifica di impedenza sulle tracce nel senso che io voglio questa traccia qua deve avere questa impedenza e loro fanno dei test con uno strumento particolare che misura l'impedenza non solo la resistività quindi non solo la resistenza di una traccia ma anche l'insieme di capacità induttanza se avete fatto elettrotecnica sapete cosa è l'impedenza e questo serve per cose più specifiche ovviamente è un check in più da fare il processo di produzione non cambia però è certificato che la traccia abbia queste impedenze via in pad via field with resin sono delle opzioni anche qua un po' più avanzate dove io ho un pad e voglio farci una via dentro quindi voglio collegare una traccia sotto facciamo un esempio io ho un BGA molto denso il BGA è quello questo è il mio chip e lui ha i suoi pad sotto ok e quindi io per saldarlo devo usare la pistola d'aria calda quello che avevo sconsigliato il primo giorno di utilizzare io per collegare queste cose qua posso fare delle tracce che facciano questo che restano fuori questa riesce qua questa riesce qua questa riesce qua ok se però questa spazzatura qua tra i due pad è troppo piccola ok questa traccia quando passa e quindi cosa si fa normalmente inserisco qua una via e collego la mia traccia qua in modo tale che non devo passare qui se però questo spazio è troppo piccolo e non mi ci sta una via io cosa faccio la mia posso inserire il bar dentro ok è un processo abbastanza complesso semplicemente perché io non posso lasciare un buchino in superficie devo fare in modo che adesso se faccio una sezione del mio PCB io sopra abbia il mio pad pieno e la mia via si aggancia al pad da sotto capite che quello che succede è che io devo perforare qua e poi devo riempire qua ok è molto scomodo molto costoso è lo stesso processo che si fa per una blind via quindi quelle cieche che vi avevo detto che erano molto complesse da fabbricare perché essenzialmente cosa si fa blind scusate bird quindi quella seppellita cosa si fa si fa il buco in un layer o meglio per le vie seppellite si prende quindi va di layer si fa un buco nell'altro si mette sopra l'altro che non ce l'ha il concetto è che io ho bisogno che ci sia contatto con il pad qua sopra quindi quello che devo fare non posso fare prima il buco in un layer e poi metterci sopra l'altro devo fare lo stack up quindi mettere assieme i layer bucarli e poi li riempire complesso ecco perché è copiato con via feed with resin quindi vuol dire che i miei bucchini li riempio di resina applicazioni particolari cosa c'è di interessante embedded capacitor il resistolo vabbè ok sono cose un po' un po' avanzate semi flex PCB ecco questo è un materiale un po' particolare che può essere un po' flesso tra l'altro queste invece sono opzioni di ispezione più avanzate normalmente cosa si fa nel processo di produzione di base il produttore per tutelarsi sul fatto che il design fosse effettivamente giusto utilizza una macchina che si chiama micro prover e praticamente controlla la continuità di tutte le tracce allora lui prende noi gli diamo una mappa con tutti i pad con tutti i punti del nostro circuito tipo qua tipo qua tipo qua tipo qua ok con le varie tracce le tracce vanno qua e le tracce vanno là lui cosa fa prende due terminali ne appoggia uno qui e poi con l'altro fa misuro qua c'è continuità no deve esserci continuità no molto bene vado qua c'è continuità no deve esserci continuità no stessa cosa vado qua se trovo continuità la board è fallata perché ovviamente non deve esserci continuità dalla mappa logica ovviamente se io metto misuro qua e misuro qua ci deve essere continuità perché la mappa mi dice che ci deve essere continuità questa non si chiama micro prober l'ho sbagliato si chiama flying prober perché la particolarità è che si muove molto velocemente quindi è molto è molto bello anche da vedere costosissimo in casa non si può fare sta roba bisogna andare con un multimetro in modalità continuità bip bip su ogni singolo pad per i pcb fatti in casa bisognerebbe fare questa cosa qui però dipende quanto a voglia ci avete se no c'è anche l'altra tecnica di quality control che viene utilizzata durante la produzione industriale del pcb è quella che si chiama AOI automated optical inspection ispezione automatica optica dove loro fanno una foto al pcb confrontano con la mappa che devono avere vedono se visivamente si vedono delle tracce questo non va bene per i layer sotto quindi l'AOI si fa layer per layer io faccio un layer faccio l'ispezione poi lo metto sopra faccio layer faccio l'ispezione e ci metto sopra quindi più layer ho più è costoso questo processo essenzialmente impedance test report loro fanno il mio test di impedenza e mi danno tutti i valori di tutte le tracce ho una bella tabella che mi dice dal punto A al punto B c'è tot impedenza dal punto C al punto D c'è un'altra impedenza tabellone e poi vabbè termo stress immediate indicator praticamente sono tutti dei test che vengono fatti per garantire che la bordo effettivamente sia conforme con un certo livello di qualità da questo punto di vista insomma questo è quello che c'era da dire se noi prendiamo un altro un altro produttore come vedete il concetto è sempre lo stesso hanno molto meno opzioni loro stampano anche su alluminio dissipa molto meglio l'alluminio ma è molto più complesso da lavorare questo è un occhio della testa quindi facendo un esempio ecco due layer fr4 cinque pezzi da 10 cm per 10 cm sono la bellezza di 2 dollari diciamo che ecco qua qua si vede abbastanza bene come cambia i costi cambiando la finitura di superficie l'asla è quello col piombo quindi stagno piombo l'immersione nella saldatura Enig invece è quello ad oro e infatti i prezzi sono 15 dollari in più essenzialmente che non è tantissimo per essere oro però se vedete se noi aumentiamo lo spessore i costi raddoppiano e se noi moltiplichiamo anche il peso diciamo lo spessore del rame esterno qua sale invece di più ancora 50 dollari il flying probe test come vedete è quello di default gold fingers sono sempre quelle cioè alla fine le opzioni sono sempre le stesse sono sempre queste avanzate ecco il four wire carving test è quello che di là si chiamava impedance testing per misurare le impedenze non bastano due terminali servono quattro terminali ed una tecnica un po' più avanzata insomma sono cosine piccoline questi qua fanno anche lo stencil se volete lo stencil quello per la stampa diciamo per mettere giù la pasta saldante fanno 3d printing e fanno anche in realtà fanno anche come si chiama assemblaggio se vi interessa qualcuno qualche domanda qualche curiosità dimmi all'interno corso avevi detto che di solito più di 4 layer non si usano o non si usano allora noi non li usiamo più di 4 layer di solito per quale motivo perché il costo è molto più complesso se noi passiamo a 6 layer ad esempio fino a 6 è ancora accettabile però vedi che 2 layer sono 2 dollari 4 layer sono 7 dollari 6 layer sono 60 dollari si scala molto di più così semplicemente perché tu devi rimanere sempre dentro lo spessore i layer diventano sempre più sottili ed è molto più complesso in realtà il vantaggio di avere più layer è che io posso dedicare ogni layer magari a un plane se noi vediamo ad esempio adesso non so se c'è tempo ma se vediamo uno stack up quindi uno spaccato di un pcb di una scheda madre sono 12 layer se guardiamo quelli di uno smartphone arrivi anche di più 24 la motivazione per cui non li usiamo noi è il costo le grosse aziende lo fanno allora se io lo faccio a cos'è 4 layer vedi che come spessore mi dà anche 0,4 minimo 1,6 è quello standard se vado a 22 layer già l'1,6 non me lo dà più mi dà il 2,4 se vado a 60 layer vado a 3,2 però capisci che 60 layer in 3,2 mm è comunque molto più sottili rispetto che 4 layer in 1,6 mm ok o anche sì servono davvero tutti questi layer o li usano l'esempio allora dipende dipende quanto piccoli fai le tue cose dipende quante complessità è per dire un pcb di una scheda madre tu c'hai il tuo processore non so se hai mai assemblato un computer in un pcb un processore tu c'hai il tuo processore che ha una serie di pad sotto tutti i pad così ok di fianco il programma che sono così ok 1 slot 2 slot 3 slot 4 slot e sono più o meno questa distanza io devo collegare 60 e qualcosa linee a questo 60 e qualcosa linee a questo 60 e questo 60 e questo quindi in realtà io in quest'area qua devo farci passare 256 linee ok quindi quello che faccio è le faccio passare tutte così il problema è che queste devono essere anche impedance controlled nel senso che devono avere tutte la stessa distanza quindi come noti questa sarà un po' più lunga rispetto a questa quindi quello che faccio è in questa qua io farò una bisciolina così però mi occupa più aria quindi su un layer solo riesco a far salare molto meno tracce è per questo che saranno più layer ma qua arriviamo a 12 layer se io prendo un processore di un cellulare facciamo un esempio io ho montati se io lo guardo di profilo questa è la mia volta io ho un chip qua e un chip qua ok io devo fare in modo che questo cosa qua mi arrivi tipo qui questo mi arrivi qui questo invece vado di qui 60 layer è tanto si usa molto poco una quantità di questo tipo ma 24 layers ci arriva tranquillamente senza problemi un PCB di un cellulare magari di solito non sono comunque dual mounting perché montare componenti sia da un lato che dall'altro è complesso perché se io scaldo qua mi si scioglie qua e questo va giù quindi è un po' più complesso essenzialmente però in casi specifici dove devi miniaturizzare tantissimo questo senso nell'esempio di prima se ipotizziamo che questo sia un BGA ok io questa riga qua l'ho fatta di 4 facciamo che sia di 30 30 per 30 un array di 30 per 30 io ho bisogno che tutti questi padel su interno vadano fuori in qualche modo quindi cosa faccio ci mettono una via qui ci attacco una traccia qui ci mettono una via qui ci attacco una traccia qui ok e questi vanno al secondo layer va bene e quindi il secondo layer ho delle tracce qua però ovviamente non posso farlo andare tutto nel secondo layer ma non vi salvo niente perché nel secondo layer ho esattamente lo stesso numero di traccia un po' le mando al terzo un po' le mando al quarto e questo è uno stack up differente ad esempio e qua servono un po' più di layer se ho configurazioni particolarmente complesse oppure devo collegare questi ping tra di loro tipo questo deve andare qua ho già bisogno di layer in più per passare qui in mezzo se hai due spazi in basso quindi i layer servono sono comodi 4 layer ci bastano se non lavorate con BGA non lavorate con BGA in casa perché è troppo complesso da lavorarci ok grazie figura questa è una questa è una dev board quindi una scheda di sviluppo per un cellulare ok quindi praticamente qua dentro ci sta tutto l'hardware che ci starebbe in un cellulare in versione un po' più esplosa un po' più grande come notata ci abbiamo un layer due layer tre layer quattro layer cinque layer sei layer ok questo per farvi capire che Kikad riesce a fare anche sta roba qua ok di solito questo tipo di lavoro è relegato ad Altium o a Eagle ma anche Kikad si difende abbastanza bene se prendiamo i vari layer adesso capiamo perché abbiamo utilizzato effettivamente sei layer ok questo è il layer 1 il rame vediamo un po' fanno così che si vede un pelino meglio ok quindi qua abbiamo notiamo innanzitutto delle cose queste sono tracce vedete che fanno gli swigle sono tracce con impedenza controllata il concetto è questo se io ho delle linee differenziali come sono queste ad alta frequenza generalmente io voglio che le impedenze delle due tracce siano bilanciate nel senso che se ho una traccia che fa questo e una traccia che fa questo le impedenze non sono bilanciate quindi cosa faccio aggiungo uno sbirulo all'altra traccia in modo tale che le impedenze siano bilanciate infatti come vediamo qua queste saranno due tracce che devono essere bilanciate e vengono bilanciate da questi sbiruli voi vedete che ci sono diversi tipi di bilanciamento quelli più piccoli quelli un po' più grandi ok in modo tale che sia tutto perfettamente bilanciato migri a beta mousse qua notiamo anche le vie di varie dimensioni varie tipologie di vie ok cosa altro c'è di interessante qua usiamo queste sono ad esempio tracce ad alta diciamo che portano l'elevata corretta come vedete infatti sono state fatte come aree e non come tracce singole se notate il net name è 3 virgola 3 volto quindi chiaramente è una traccia di alimentazione questi circuiti di alimentazione ad esempio questa è una zona particolare in cui andare a vedere perché qua sta succedendo un sacco di cose che non sono proprio comuni da vedere ma in circuiti digitali ad alta frequenza lo sono facciamo un esempio cos'è questo agglomerato di vie ok questo agglomerato di vie è un modo per portare tanta corrente da un layer all'altro se io faccio tanti buchi posso far passare più corrente se ne ho uno solo dopo questo stessa cosa quanto questo tramite ok poi in base al tipo di circuito ci sono anche altre come avrà fatto vedere il professor Terragno ieri ci sono anche altre funzioni magari possono essere test di guardia o altre funzioni differenti questo ad esempio è un custom footprint se vedete c'è un po' un casino di nomi sopra perché in realtà sono più pad collegati tra di loro quindi questo è uno questo è due tre ed è custom come cosa quindi non fa parte di una libreria non è una cosa standard da fare questo ad esempio è anche solo il primo layer qua si nota qualche connettore un po' se c'è qualcosa di interessante ecco questo ad esempio è già un cipettino abbastanza denso ecco notate quei buchi nel centro quei buchi nel centro vedete che sono rappresentati in modo diverso da queste vie quali sono? letteralmente dei buchi non portano corrente non sono collegati elettricamente lo scopo è dissipazione di calore nei ground diciamo nei pad di questi cip perché questo cip qua ha i connettori i filaterali e al centro invece ha un pezzo comunque di rame esposto cioè nel caso delle componenti non necessariamente rame che fa contatto invece con questa piazzola ground l'unico scopo di questa cosa qui non è metterlo a terra ma è trasmettere calore io contatto direttamente questa piastra di ground in modo tale di trasmettere calore e questa è una tecnica abbastanza diffusa soprattutto nei mosfet grossi adesso qua non so dove sta la sezione d'alimentazione però nei mosfet un po' più grossi si fa sta cosa qui generalmente e poi ci sono cose un po' strane questa è una via fence ad esempio sono per isolare delle sezioni da interferenze elettromagnetiche come vedete sono delle tracce che hanno tutte queste vie in mezzo che tagliano tutti i layers in modo tale che io faccia una gabbia di faradai attorno non accertare che gli interessa e come le date si può essere a terra chiaramente adesso nello specifico non so che parte di circuito è non so cosa sia sta roba qua ad esempio che è abbastanza rispetta come cosa però diciamo che gli ingegneri che lavorano a queste cose qui lavorano con diciamo delle tecniche un pelino più avanzate di quelle che abbiamo visto noi questo è il primo layer se noi andiamo al secondo layer questa è già una sorpresa vedete non ci sono tracce qua a parte le via fence là in alto che separano una parte questo layer qua è no non è quello che volevo fare volevo fare no no sì questo è collegato a terra adesso lo vediamo ok quindi questo qua è un layer di terra e basta cosa serve? serve a separare come disaccoppiatore di capacità le tracce del layer sopra e le tracce del layer sotto funzione 1 funzione 2 serve a portare la terra in giro in modo tale che io ce l'abbia in giro interno layer 2 e infatti come ci aspettavamo questo è un layer di tracce invece e queste sono semplicemente delle tracce fanno la stessa roba di quello che abbiamo visto prima ok il layer successivo ancora è anche qua un layer di plane ma questo è un layer che non è tutto unico c'ha qualche traccia c'ha qualche spezzatura tipo qua si vede abbastanza bene che ho detto si vede abbastanza bene non si vede no 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 ti pare c'è un modo per selezionarlo in modo più intelligente si ma non me lo ricordo vabbè comunque questo qua è un plane che però vedete che è elettricamente separato da questi altri questi a ricordi logica sono power plane nel senso che trasportano grande quantità di corrente e sono generalmente hanno funzioni di alimentazione e qua sono tutti separati tra di loro come si vede qui e questo lo può comprovare anche questa traccia un po' più ciccione altro layer in mezzo anche questo di isolamento immagino sia dove l'ho visto ma anche questo è collegato a terra serve sempre per isolare i vari layer di tracce e l'ultimo sarà anche questo di tracce esattamente come gli altri questo sarebbe per far vedere che sei tracce sei dei che servono sia come requisito di disaccoppiamento sia come invece magari requisiti di di routing questo ad esempio è un circuito digitale se prendiamo anzi no premolo qua se prendiamo un circuito analogico ah no tra l'altro c'è proprio un se riesco a trovarlo c'è un non è mai nella vita qua vero qua c'è invece il progetto di un vero e proprio pc ah tra l'altro dato che più o meno qua sto andando un po' libero qualcuno ha qualche domanda nello specifico qualche curiosità che vorrebbe chiedere perché possiamo concentrarci su quello tipo hardware master hardware master pcb acc ca acc ca cc pcb questo è un pc finanziato dal governo non voglio sbagliarmi argentino tipo per essere completamente open e come vedete allora a istinto questo è palesemente un bga vedete se zoomiamo molto ci sono i pad che sono quelli rossi che ognuno è collegato a una via e passa sotto e quindi se noi andiamo a vedere il layer sotto tipo questo no tipo questo no a parte che abbiamo zoomato su una zona in cui sono tutti ground però vabbè no questo è segnale qualcosa esce da qua e qualcosa uscirà anche da qua esatto e quindi servono almeno due layer per far uscire tutti i segnali che ci interessano e l'area di cui parlavo è tipo questa questo è qua il footprint di un tipo di memoria bga anche questo si riconosce perché sono fatte così di solito se prendete un ssd nvmi quelli da infilare dentro in formato m2 ad esempio un ssd di qualsiasi tipo le memorie flash sono delle bga sono dei chiponi bga piazzati sopra e hanno questi tipi di chip qua essenzialmente come vedete le linee di uscita sono bilanciate queste qui e in realtà adesso passeranno nei layer sotto esatto questo è già abbastanza indicativo di come si collegano tra di loro essenzialmente tra l'altro questo è un pcb esatto non ho guardato tutti i layer questo è un pcb a 12 layer questo è il segnale però ground segnale ecco questo no non è neanche questo quello che volevo vabbè ci sono più layer non si riescono a visualizzare cioè posso visualizzarle tutti assieme sarebbe stupido tipo faccio così all copper layers e poi tolgo i piani così eh questo va bene per dire questa zona come vi dicevo e come si prevedeva è abbastanza piena di roba ed è per questo che servono 12 layer in questo tipo di applicazione essenzialmente poi qua ad esempio possiamo vedere alcune cose non selezionare se non crasha tutto queste sono tutte bilanciate vedete la superficie aumenta se c'è necessità di tracce bilanciate ad esempio questo non so precisamente che tipo di connettore sia fmch no questa è la net questo è un non ne ho la più palida idea sono connettori custom essenzialmente però se vedete anche un connettore pci ad esempio ha lo stesso tipo di pattern nel senso che se girate nella vostra motherboard vedrete una serie di pin così stagherati quindi non perfettamente allineati per tutta la lunghezza del connettore pci e la stessa cosa succede per questo tipo di connessioni dati e il concetto è che se io devo trasportare 120 cioè o meglio no facciamo 30 linee pci dal mio processore al connettore pci un po' di spazio mi serve se poi devo passare da un chipset da queste cose qua un po' di cose mi servono qua rivediamo la stessa cosa di prima questo qua è un regolatore palesemente regolatore di tensione chiaro no si vede perché ha un sacco di dissipazione quindi performa un qualcosa che consuma un sacco di energia elettrica e poi ha un 5 volt da una parte un ground dall'altra in realtà sì di solito dovrebbe essere una sezione di regolazione di tensione questa noi lo vediamo ecco questo qua è il footprint ad esempio di un connettore dc ground 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 5 volt e da qua potremmo seguire la nostra traccia vedere poi ci sarà un non vedete di cosa sia questo però insomma questa è la sezione ipotizziamo che questa sia la sezione d'alimentazione qua c'è il processore qua sotto c'è la memoria questa è un'unità di espansione questi sono cose di debug probabilmente e questo invece è un circuito digitale ancora più complesso di quello che avevamo visto prima vedete questi pad blu sotto sono condensatori di disaccoppiamento che sono montati sul lato dietro della motherboard se notate sulle motherboard questo è abbastanza comune se girate dietro il socket ci sono dei condensatori di disaccoppiamento perché devono essere quanto più vicini come ha detto Terranio ieri quanto più vicini possibili ai pin che devono disaccoppiare quindi qua fuori è troppo lontano quindi li mettiamo dietro un po' complesso da fare ma si può fare l'ultimo circuito invece che volevo vedere questo è un oscilloscopio e come vedete è un po' diverso ok innanzitutto pieno di componenti discreti si tratta di transistor generalmente amplificatori a stadi però discreti e cose del genere adesso qua stiamo vedendo solo alcuni dei layers questo è un 6 layer ad esempio però come vedete è un po' meno un casino di quel circuito digitale perché le linee sono meno però qua abbiamo 4 connettori principali a nord nella parte nord e ognuno ha le sue linee tutte queste quante cose e poi ci sono probabilmente dei processori degli ADC ci sono molto probabilmente degli ADC che parleranno con il microcontrollore che sarà qua giù ecco si vede abbastanza bene qual è il microcontrollore e insomma questa è una cosa a componenti discreti quindi i footprint sono tanti tra l'altro credo che se lo vediamo in 3D o crasha il mio computer o si vede abbastanza bene la quantità di roba che c'è da saldare so sì esatto si vede abbastanza bene la quantità di roba che c'è da saldare sopra e come notiamo allora questo di solito potrebbe essere un FPGA questo avrebbe senso questo è un microcontrollore oppure questi sono due insomma sono due processori in qualche modo questa è un'unità di memoria perché questo tipo di pattern è di solito associato alle memorie questi potrebbero essere gli ADC sono abbastanza importanti perché qua in alto ci sono i nostri connettori questa sarà tutta l'area analogica e questa l'area digitale questa parte qua sotto perché come abbiamo detto separare molto bene l'area analogica e digitale e piccolo accorgimento se notate qua lateralmente ci sono queste via fence sono quelle che abbiamo detto prima ground che percorre tutto il perimetro della borde delle vie che la trapassano in modo tale da fare da gabbia di far dai segnali all'interno in realtà se vediamo un po' i vari strati non ho non ho controllato prima ma è possibile che ci sia una separazione dei rumori per dire questi sono segnali aspetta voglio vedere solo questi però togliendo questi allora il layer 1 è di segnale come vedete non ci sono neanche cose di ground particolari il layer 2 è terra tra l'altro come vedete ci sono alcuni buchi questi per questione di rumore sensualmente il layer 3 sono segnali questi sono digitali come si vede partono tutti dal microprocessore o dall'fpga quello che è ecco qua si vede abbastanza bene l'isolamento delle tensioni di alimentazione noi possiamo supporre che più o meno qui ci sia la diffusione tra analogica e digitale e infatti se notate i nostri ADC erano in questa zona che fanno da ponte da una parte all'altra essenziale e qua dividiamo le varie tensioni per una questione di rumore per una questione appunto di separazione ma si vede abbastanza bene questo è la stessa roba un altro piano di ground e questi sono altri segnali e questi potrebbero essere anche analogici anzi probabilmente sono analogici perché partono da sopra però c'è anche una parte di digitale qua sotto probabilmente questo è un po' per vedere più o meno i vari tipi di PCB queste sono cose molto complesse credo serva un po' più di una laurea per progettare queste cose oppure un sacco di esperienza però questo è per farvi capire che a differenza di come qualcuno potrebbe pensare Kikad è in grado di fare qualsiasi cosa ho fatto vedere un computer ho fatto vedere uno sciloscopio che è complicato ho fatto vedere la madre di un telefono mi manca quella di una navicella spaziale ma se volete ci sono cioè se io vado qua e faccio made with Kikad Kikad ha proprio una pagina dove mostra le cose che sono state fatte effettivamente con Kikad essenzialmente questo è quello è il computer che vi ho fatto vedere io ad esempio quel connettore là in alto che non sapevo cos'era effettivamente non so cos'è però come vedete il processore ha messo a PGA che è una Zik RAM ok questo sarà il connettore d'alimentazione esot DC e tra l'altro quello che avevo detto che è una sezione d'alimentazione non lo è perché gli sta un dato evidentemente non gli serve e queste sono tutte cose che si possono fare per ispezione visiva qua c'è un induttore ad esempio quindi potrebbe essere vicino alla sezione d'alimentazione e qua si va un po' in tutto da questo punto di vista però se roba spaziale ce n'è se noi andiamo avanti probabilmente un drone un arduino una tastiera questo ce l'abbiamo in sede tra l'altro che avete visto è una radio e quanto questo è un flight control system per i droni se volete bombardare qualcuno questo va benissimo questo è invece il kit per telefoni che vi ho fatto vedere vedete che non assomiglia proprio a un telefono anche perché c'è un dissipatore gigante sopra però c'è tutto c'è il modulo gsm il modulo wifi bluetooth e queste cose qui c'è un computer vero e proprio questo è un password manager che conosco è fatto molto bene questo è un adattatore insomma c'è qualcosa in risk fire se qualcuno piace questo è il prototipo di uno smartwatch ecco questo si questi sono satelliti letteralmente sono piccoli satellitini che vengono mandati nello spazio le nostre associazioni che fanno che mandano roba nello spazio che sono skyward e polyspace che non so se ne avete mai sentito parlare ma sono davvero ragazzi in gramba hanno hardware open source e software open source ma usano usano altium le stesse cose le potrebbero fare con KICAD tecnicamente le stesse identiche cose si possono fare con KICAD questo invece è l'uscilloscopio che vi ho fatto vedere come si vede qua c'è il processore qua c'è la memoria qua ci sono i quattro collegamenti questi saranno gli ADC probabilmente perché qua c'è la separazione digitale analogico questa è l'interfaccia digitale essenzialmente un altro computer e si va dai progetti molto semplici ai progetti molto complessi adesso questi università di Urbino quindi anche roba italiana insomma questa era la panoramica che volevo fare oggi se avete domande e curiosità fatele pure se no direi che abbiamo finito abbiamo anche un po' sforato ma grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti